Ancora un omicidio nel capologo d'Auno, il secondo dall'inizio dell'anno, il terzo in soli cinque mesi. Alessandro Scrocco, 32 anni, foggiano, è stato ucciso da chile rignoti nei pressi del carcere, in via delle casermette, nella periferia di Foggia. Il 39enne è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco mentre rientrava nel penitenziario. L'uomo è in regime di semilibertà, stava scontando una condanna a 15 anni di reclusione per aver ucciso con un colpo di pistola. Nel 2010, Roberto Speranza, un 19enne con il quale aveva litigato il giorno prima, nella notte di Capodanno, quando Scrocco aveva sparato in strada con un fucile a canne mozze, colpendo l'auto e il portone d'ingresso dell'abitazione del ragazzo. Tra i due ci fu un litigio proseguito il 2 gennaio, quando Alessandro Scrocco incontrò il 19enne vicino alla chiesa Sacro Cuore, al rione Candelaro, sparandogli due colpi di pistola calibro 9. Speranza morì poco dopo in ospedale. Nell'aprile del 2011 Scrocco venne condannato in primo grado a 19 anni di reclusione, pena ridotta in Cassazione a 15 anni. Il cadavere di Alessandro Scrocco è stato ritrovato dalla polizia penitenziaria nell'automobile, una Nissan di colore scuro parcheggiata in prossimità della casa circondariale. In un primo momento si era pensato ad un suicidio, ma una volta sul posto, gli agenti di polizia hanno accertato che si trattava di un omicidio.